I giorni sul sito del comune di Torre del Greco era visibile l'avviso pubblico per una manifestazione di interesse per cercare soggetti che organizzino eventi per la rassegna natale da favola. Oggi tutto è stato annullato, cosa è successo? Abbiamo appreso che è stato annullato per un errore informatico che non ha permesso la pubblicazione della determina collegata all'avviso, alla manifestazione di interesse. È una nota che abbiamo inviato qualche giorno fa anche noi al segretario generale, sottolineando il vizio procedurale perché il semplice avviso non supportato da una determina che ne indicasse l'impegno di spesa, il responsabile del procedimento, che approvasse l'avviso stesso, poteva essere possibile solo quando si trattava di una semplice manifestazione di interesse. Dal momento invece che l'avviso, leggendolo bene nelle pieghe, prevedeva anche il ricepimento delle offerte da parte degli interessati e che all'articolo 7 chiudesse anche il procedimento con la comunicazione di chi era vincitore o meno, appariva come un bando informale, procedura possibile anche secondo la legge semplificazione ma con l'obbligatorietà di una determina che ne indicasse i contenuti di cui prima. È evidente anche un'anomalia nella scadenza? La scadenza era prevista per oggi alle 10 del mattino e se non erro la pubblicazione all'albobbligatorio dell'annullamento è avvenuta postuma la scadenza. Speriamo che questo non possa creare dei dissidi e degli strascichi, delle code al tutto. Siamo curiosi anche di vedere se poi sarà sempre lo stesso avviso ad essere pubblicato. Comunque per ogni procedura di questo tipo l'attenzione da parte nostra e delle opposizioni generali sarà alta. Sicuramente sarebbe stato forse anche politically correct annullarlo prima della scadenza o evitare qualsiasi retropensiero. Continueremo ad avere comunque l'attenzione necessaria.